e bentornati in un nuovo video allora come avete visto niente vuole stare qui facciamola stare qui notte buona è come avete visto dalla copertina è arrivato il pacchettino è arrivato da fabio l'ho preso le cosine non sono col cantini non sono cose l'ho preso su facebook mi ha dovuto aspettare ho aggiunto cosine perché per una spesa piccolina fare una spedizione insomma perché ha prezzi molto buoni anzi direi ottimi quindi ne ho approfittato per prendere qualche cuccia e lo apro ancora non l'ho aperto davanti ci sono gli indirizzi quindi non ve lo faccio vedere non ho ancora aperto lo faccio insieme a voi a voi così gli rilascio anche i feedback perché su facebook funziona così chi acquista su facebook poi va lasciato il feedback se è positivo se è negativo positivo così almeno la gente poi vede e vede i feedback e si può andare a fidare della persona io ho comprato altre volte da fabio i miei feedback sono stati tutti positivi quindi so già so già il mio feedback perché so già che è una roba bella e tenuta bene quindi vabbè però io lo vado ad aprire insieme a voi in tempo in tempo in tempo insomma ma in genere un po di contenuto ad passiamo allo schieretto sì 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 che è solo a porbicina ma simona mi ha detto apri così no ma c'è lo scotch in genere c'ho il cane che praticamente si vuole addormentare sul mio braccio c'è tutte le tue posizioni strane in gel che vuoi vedere cosa ho comprato bene guarda insieme a noi Devo fare attenzione perché dietro ci sono Grazie per l'acquisto Fabio Ah va che carino con gli occhiettini Bello, guardate qui Lucicante e gli occhietti Ha fatto la facciolina Mamma mia Qua c'è la bustina con gli omaggi Wow Con gli adesivi di Barbie No vabbè Oddio Qua sono le scarpine Ma sono scarpe di Ken Iniziamo con questa bustina Niente Angel Impicciona Ci vuoi mettere il muso? Vuoi vedere tu se vanno bene? Va bene? Ok Non buschano le scarpe di Ken Aspetta se si muove a tutto Angel Allora Scarpe Ma insomma Le hai già usate Blu Per Ken E rosse Per Ken Le ho prese per Jonathan Jonathan adesso è su E niente Questo qua Vabbè Questo qua io lo darò a Simone Vediamo se poi stanno a Ken Dammi Ho preso il VMR Che comunque è come Jonathan VMR Jonathan E andiamo subito a provare E andiamo subito a provare le scarpine Vedere se vanno bene Sì che vanno bene Yeah Vanno benissimo Wow Perfetto Ci vanno Fabio ci vanno Fabio ci vanno Che bello Che bello Che bello Vediamo le blu Anche le blu vanno al BMR Così Fabio puoi dirlo Se te lo chiedo non puoi dirlo Ci va 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 Perfetto Le scarpe sono belle Ok mettiamo via il Ken Sotto sono così Qua sotto c'è scritto Ken Perfetto Niente Siamo spaventati tutti Ok no Aspetta lei Andiamo avanti con l'altro Paccettino Allora io non volevo rompere queste cose Il sacchettino Cioè il sacchettino si Ma gli occhietti volevo tenerti come Basta Simone Anche qua devi controllare Ci abbiamo Ok vai Madonna Ma Stai cadendo In gente Madonna Abbiamo il controllore Va bene Vanno bene Ok ti piacciono Ok a posto Tiriamo fuori L'abitino Blu Tutto Mamma mia Blu Guardate Perfette condizioni Non c'ha uno strappo Non c'ha niente Guardate Non ha niente Qua comodo Vecro Che è Vecro Che è Vecro Si appiccica È Vecro Ege Molto bello Spade scoperte Con l'accettino È tipo Tutto un bello Tridimensionale Bello Lucicoso Uno Magliettina A canotta Nera Tipo pelle Con Tipo Borghette Però sono Ma no Non si mangia Blu Rosa finiture Storta Modalità Modalità Moda Storta Qua Ha le stelline Qua Non si mangia Questa roba Non si mangia Altra Canottiera Canottiera A quadretti Nera Con Il Colletto Qua Si aggancia Col velcro Dietro Vedete Dietro Il collo E dietro Carina Bianca Molto 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 Bella Quest'altra Con Le I più Gialli Nera A crop top Modalità Larga Modalità Ma perché mi viene in modalità oggi Vabbè Fa niente Velcro Dietro Vedete Tutto perfetto Non hanno un buco Ragazzi Non hanno un buco Guardate Niente Questa è perfetta Ma questa qua Si potrebbe Essere Reverse Cavolino Perché c'ha Il co Vabbè Dopo ci proveremo Questa è Una cintura Se lo apro Se riesco a aprirlo Riuscirò a aprirlo Giura Mi controllare tu? Dai Muttaci un muro Ok Ti piace? Ok Va bene? Va bene? Posso aprire Cintura marrone Sempre il vecchio qua Ok Con Piorellini Poi Ho preso Il cerchietto Azzurro Blu Happy birthday Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday To you To you To you Ora proseguiamo All'apertura Del Ari dai Angel Degli omaggi Li da sempre Li da sempre Aspettate che Lo trovo Non volevo rompere La scritta Barbie Perché mi piace Niente Angel Tutto il tempo Allora Rilasci tu Fitvick Vabbè Controlla tu Tutto a posto Ma cosa lecchi Ma È profumato? Ok Tutti sigillati A mo' di bomba Oh La 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 Questi sono Gli omaggi Gli accessori Per Barbie Questo credo Che sia La borraccia Rosa Penso Presumo Il profumino Rosa Il sapone Per le mani Rosa Presumo Che sia il sapone Perché qua C'è il tic tac Lo specchietto Ok Quello che volete voi Se bagno schiuma O Bolo palco E E Boh Cremetta Questi sono Tutti gli omaggi Anche questi Perfetti Di No Non si bagna mai Di Fabio Devo stare attenzione Al cane Ok Ora Alzo Lo scherzo Amo lo schermo Che mi dici Ok Eccoci qua Guarda Guarda Abbiamo già messo Il primo outfit Il vestitino L'abbiamo messo anche Che vabbè Non ci sta bene Ma invece si Ma non mi piace La sopra qua Vabbè Ma si dai La cintura E il cerchietto Happy birthday to you Molto molto bello Happy birthday to you Il vestitino Gli sta da dio Guardate Ok Passa all'altra All'altra E la seconda È molto molto bella Veramente bella Veramente mi piace Veramente bella Mi piace Mi piace Mi piace Questa è che c'è Dietro bianco Vedete E volendo Se dovete fare Uno scatto Di foto Guarda Si può metterla Come Ecco È così Il verso Però Diciamo Guardate Però Però Guarda Qui Così Va bene Tu sali sul tavolo Non c'è problema Dai Vieni Aspetta Facciamo Comodare Però Non è mica male Così In più modi Io dicevo Adesso Mi è venuta così A girarla E guardate Perché Dietro è fatta così Non so se si può Con il cane in braccio È un po' Guardate Anche così No Vabbè In tre modi C'è Perfetto Fabio Mi piace Mi piace Mi piace Passiamo All'altro Passiamo All'altro 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 Ti piace Ti piace Perché mi piace Non toro No no Leva via Che con Seconda maglietta Sì No seconda Perché prima era il vestitino Molto molto bella Molto molto bella Molto ben fatta Gli sta da dio Larga sotto Sì Con un bel Diciamo Ad esempio Mettiamogli il suo pantalone Va Che Pantalone Vedete Molto molto bella Sta bene Dai Molto bella Mi piace Mi piace Mi piace Perché poi Il carnagione Vediamo Molto molto giallo Molto molto bella Mi sta da dio Perfetto Perfetto In inglese C'è Pigi 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 P Pazzo Eh? Ma stai registrando? No Ma sì No Sei fuori? Non è vero E poi sentono il rumore Della serie Non è vero Ma pure di fare cose Smontiamo Al serio Ma pure che fai così Sì Beh Perché dono Lo coi tagli Alla sera Una tormentata Eh No Hai vinto di brunire? Dai Sì Vai Vamos Ma perché fai ancora a vedere la cintura? Dobbiamo far vedere i vestiti di lavai maglietta Questa è l'altra Adesso abbiamo lasciato sotto il pantalone per farvi vedere che è storta qua Molto molto bella anche questa Fantastica Veramente fantastica Mi piace Mi piace Mi piace Molto bella Dietro non ha le stelle semplici ma molto bella E davanti a tutte le stelle luccicose Blu Blu E qua in pelle Guardate Veramente Oh Oh vabbè lo posso spiegare Non basta? Non basta Non basta E già basta Niente Allora Avete visto tutto quello che ho preso da Fabio Mi sono piaciute tutte le cose Quindi il mio feedback è positivo E sono tutte cose messe benissimo Sembrano nuove praticamente Non so se ne abbia mai usate qualcuno Ma io penso proprio di no Perché veramente sono cose Non sembrano mai usate Cioè Non Non perfette Quindi Che che dire Fabio è il top Come sempre Come sempre E poi i testi sono favolosi Quindi Qualcosina sempre prendo Perché mi piace Ma mi piace questa Però Non sempre si può Però vabbè Mi piace Quando arrivano questi pochettini Mi piace No perché? Eh ma Anche se faccio così Anche se mi muovo poco O scrive Vabbè Comunque Il feedback mio è positivo Super positivo Vi lascio i link In descrizione Della sua pagina Facebook Per andare a vedere Quello che ha in vendita Anche Perché anche ha messo Sai che ha messo in vendita? BMW BMW E ora abbiamo Che non abbiamo Sai che è del corpo Bene Niente Detto questo Vado a piangere In bagno Vi saluto Vi saluto Vi do appuntamento Al prossimo video Vi raccomando Seguiteci sempre Sostenetici Iscriviti e E niente Like Iscrivetevi Continuate Ad iscrivervi Continuate Ad iscrivervi Line Nini Ni Tu fai Ti rissoci Vero? Vero? Engine Che si devono Iscrivere A canale Che si Devono Iscrivere Vabbè Ciao Baccia a tutti Scusate Mi ero dimenticata Simona, lei che ne pensa Di tutto questo che ho preso Oh Che ne pensi? Sono molto bello Che ne pensi? Sono fantastici Sono fantastici Bene, anche lei ha detto la sua Ma a me non me ne frega della sua Perché tanto sono i miei Quindi ciao Simona